Allora, l'ultimo brano in gara è L'amor e Cumalun. L'autore del testo è Michele Consiglio. L'autore della musica è Pasquale Curiale con arrangiamenti di Marchione Raffaele. Da gamba tesa canta Pasquale Curiale. L'autore della musica è Pasquale Curiale. L'autore della musica è Pasquale. 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 a mandarla in un momento che se stai che una guagliola ti fa sbattare il cuore la mattina quando comincia albiana meno una albarana che freschezza la luna chiana chiana sono vana e il resto vandarella che accarezza amore cumanuna davidia cnastà una e crescente che arriva in un'anzia un'anzia in dolet che a distanza amore cumanuna d'avidia cnastà una e crescente che arriva in un'anzia La luna, la vita c'è nesta una, e che scienze ca trippananze, ma canze nuolette ca distanze, e invece è luna piena, quando sangue scatti bene. Grazie, grazie mille.